ciao anto ciao ricchi benvenuto è una felpa bellissima no è un maglione è un maglione a righe allora che non ci sono più non si possono non si riescono a trovare così tanti maglioni a righe come una volta e questo è un dramma per me un dramma sì chiedo scusa intanto a tutta la federazione felpe perché l'ho paragonata a una felpa e chiedo scusa la federazione maglioni per perché non ho riconosciuto che fosse un maglione però questo color stregatto è bellissimo mi piace tantissimo ma sai che è ancora più bello lo stregatto il nostro tagliere bisagni come va come stai benissimo sono contento di essere qua con voi sono un po preoccupato ma contento fai bene tu sei il direttore del nostro istituto universitario com'è essere il direttore di un istituto universitario è un'esperienza nuova arricchente che sto cercando di capire bene ma che è molto stimolante e che arriva dopo tanto tempo in cui ho sempre fatto il libero professionista che lavorò per conto mio adesso ritorno a lavorare come negli anni passati con il gruppo insieme a colleghi a costruire fare gruppo quindi un'esperienza bella va in continuità anche con cosa significa il toniolo per me come docente cos'è stato per me insegno delle materie bellissime che a me piacciono tanto ad esempio facciamo il segno dinamica di gruppo il laboratorio dinamiche di gruppo e psicologia sociale e era una sfida che mi motivava e sono stato anche onorato di e grato anche di questa proposta quindi ci ho pensato nelle tue materie che insegni dinamica di gruppo cosa significa il target di riferimento nostro all'interno del corso di laurea è proprio il gruppo di comunità il gruppo con i nostri ragazzi cosa vuol dire fare il gruppo però chiaramente per pensare al tema del gruppo noi dobbiamo pensare alla nostra esperienza in gruppo quindi un buon educatore che deve comprendere i gruppi deve pensare anche ai gruppi della sua vita della sua storia e quindi anche un buon modo per riflettere anche sul gruppo nostro come famiglia no la famiglia è un gruppo ragionare sulle dinamiche ragionare su tutto ciò che può far diventare quello che dice Levi no quel gruppo qualcosa di più della somma delle parti ecco per me è la definizione che io presento sempre che è fondamentale Qual è il tuo ruolo ancora rispetto alla supervisione e che cos'è fare supervisione? Allora sì da tanti anni ma non so non saprei dire da quanti anni mi occupo del coordinamento della supervisione. Ti dico solo che io ho iniziato a lavorare per il CES nel 2007 e c'era già Ed eri già leggenda? Poi quando mi hai conosciuto di supervisione hai scoperto che io ho iniziato a collaborare col gruppo CES qua a Modena era nel 98 quindi probabilmente ho iniziato a fare supervisione in quell'anno lì. Sì quindi direi che quest'anno faccio il 25esimo. Complimenti! È una super celebrazione! Dobbiamo riorganizzare tutto il sito per... Grazie dell'applauso! Che cos'è una supervisione? Se io dovessi spiegarlo a una persona completamente distante dal mondo dell'educativa, del sociale eccetera nei fatti che cos'è? Un lavoro in gruppo. Una supervisione può essere prima di tutto un buonissimo strumento per far diventare quel gruppo un gruppo di lavoro. Perché non necessariamente un gruppo di lavoro un gruppo di lavoro. Potrebbe rimanere un insieme di persone che interagisce fra di loro. In realtà la supervisione come le riunioni, come alcuni altri strumenti, si colloca come uno spazio privilegiato del pensare, io lo chiamo, in cui le persone possono pensare, ripensare al proprio ruolo, aver cura di sé, aver cura anche delle relazioni all'interno del gruppo. La supervisione di cui mi occupo io, insieme a altri sette colleghi, si occupa principalmente della supervisione di tipo relazionale. Anche i casi che vengono trattati però non sono una supervisione sui casi. Il caso è lo strumento di lavoro sul ruolo. Come sto con i miei colleghi? Che cosa impedisce il raggiungimento dei nostri obiettivi? Cioè ci riconosciamo fra di noi? Sappiamo lavorare insieme? Sappiamo anche dirci le cose quando le cose non funzionano, non procedono verso giusto e si ripensa anche a nuove strategie che si possono mettere in atto anche per uscire dalla frustrazione a volte di lavori così impegnativi e dalla passività che potrebbe generare questa frustrazione. Cosa vorresti che rimanesse a chiusura quando chiudi una supervisione al gruppo di lavoro? Come rimando? Mi piacerebbe che le persone portassero via l'incontro con l'altro, il pensare che quello non è un momento che bisogna fare perché è richiesto ma che è uno spazio per me che può frenare l'impulsività dell'agire, l'emergenza costante. Quello è un luogo per te. Io penso che si supera la frustrazione e l'impotenza dandosi potere e il potere è dato proprio del sentire che io posso incidere e quindi raccontare una mia difficoltà per trovare un'altra strategia, un modo per darmi potere e non per sentirmi schiacciato da tanta fatica e anche tanta problematicità. È una situazione che è ricorrente durante le supervisioni come dinamiche tra colleghi? La prima tematica che torna è il bisogno di sfogarsi che va accolto perché è fondamentale ma quello che io cerco sempre di fare è passare dallo sfogo all'atteggiamento propositivo. Uscire dopo essermi solo sfogato può essere solo ancora più, posso sentirmi ancora più appesantito. Io posso incidere se in quel momento lì dopo lo sfogo inizio a introdurre qualcosa di nuovo. E una cosa che credo molto importante anche nel ruolo dell'educazione sia risvegliare il potere dell'immaginazione. Un luogo per risvegliare il potere immaginativo dell'educatore. Sasso? No, non dobbiamo dire. Carta, forbice, sasso, uno, due, tre. Porca pò. Come crei questo percorso, questo tuo percorso insieme a… Allora, io mi appunto quello che viene fuori fra un incontro e l'altro. Uno perché sono un anziano. Due perché, avendo anche diversi gruppi di lavoro, è importante tenere tracce dei contenuti trattati e delle problematiche emerse. Il supervisore non è colui che determina che cosa trattare nell'incontro successivo. Il supervisore è colui che ricorda che cos'è accaduto e srotola un po' questo filo. Un regista dell'azione, ecco, in certi momenti. Praticamente funziona così. È un incontro che si fa, diciamo, di media una volta ogni mese, mese e mezzo, ok? Di due ore. Di due ore precisa. Attenzione al setting, amici da casa, perché il setting, se sono due ore, sono due ore, cascasse il mondo, ne è un minuto di più, ne è un minuto di meno, ok? In cui tutta l'equip di lavoro, quindi direttore, vicedirettore, operatore, eccetera, eccetera, si siedono in cerchio. Possibilmente senza tavoli. Senza tavoli nel mezzo. Nel mezzo. Perché non sono podcast. E praticamente si ragiona su come si sta e quali problematiche si affrontano sul lavoro. Faccio un esempio per capirci tutti quanti. Ho un ospite in comunità che è molto aggressivo. Io sono in difficoltà ad andargli a dire di fare le cose o andarlo a confrontare. Parlo di questa cosa ai miei colleghi. I colleghi mi rimanderanno loro cosa ne pensano, se qualcuno si trova nella stessa situazione, perché cosa mi muove quest'ospite quando si comporta così, come lo sento e come posso venirne fuori. Soprattutto chiedendo aiuto, rivelando questa parte di me al resto del gruppo. Il tutto mediato da Daniele, oppure altri colleghi che hanno lo stesso ruolo di Daniele. Potreste diventare in nove. Potreste diventare in nove. E' veramente bravissimo. Una supervisione che per te è stata difficile. Due gamme di supervisioni che per me sono molto, molto, molto difficili. La prima, quando entri, vuoi lavorare col gruppo e nessuno ha niente da dire. Tu provi, insisti, ma non parlano. Cos'è che porta a far succedere una situazione così? Cioè che nessuno dice niente? Perché è impossibile che non ce ne sia da dire. Anche il silenzio parla, quindi bisogna comprendere se è un silenzio di timore, un silenzio di un conflitto che può essere presente. Mi ha fatto venire in mente che quando, in una fase della mia vita, in cui ho iniziato fare dei gruppi con gli utenti più impegnativi, mi affiancava in questa cosa, in particolare Patrizia Predari. Un altro mito. Un altro mito, una mia collega che saluto con tanto cuore. Anch'io. La prima volta che gli ho chiesto un feedback gli ho detto, Patti, come sono andato? E mi fa, a te c'è il problema con il silenzio? Perché a te più di 30 secondi zitto non ce la fai. Cioè per te il silenzio è insostenibile, hai bisogno di riempirlo subito. E questa è una. L'altra è le supervisioni in cui emergono temi di dolore profondo. Quando parti appunto dal rapporto con un utente che ti evoca l'aggressività, ma molte volte l'aggressività non è solo l'aggressività. L'aggressività è dolore, l'aggressività ti porta a esperienze passate. E quindi sofferenza, sofferenze grandi. Qualcuno parla anche di temi forti come la morte. Come conduttore accettare quei temi lì è metterti in contatto anche con la tua parte fragile. Quindi a volte come conduttore ti dici, ma lo prendo, non lo prendo? Ci sto male anch'io come tema. E quindi è faticoso di accettare, è difficile, è impegnativo. Però è... E come fai a creare quella distanza, quella giusta distanza? Faccio quello che insegno anche nel laboratorio di gruppo. Cioè mi tiro fuori un attimo e utilizzo il gruppo come sala degli specchi, che dà dei rimandi e che si coinvolge con la persona, in modo da riprendere controllo sulla situazione. In certe comunità quando qualcuno ha subito anche aggressività molto forte, violenza ecco in certi momenti, oppure quando ti trovi a contatto con, come è successo in alcune supervisioni, di qualche utente che è morto in comunità. o quando qualcuno ti parla di colleghi a cui sei legato che sono morti e con cui hai condiviso fino all'altro giorno anche le esperienze in gruppo. Cioè sono temi fortissimi che dal punto di vista della conduzione sono importantissimi per quel gruppo, perché quel gruppo ha bisogno di elaborare quel passaggio, quel momento, quella sofferenza, perché serve per crescere ed è importante proprio per diventare un gruppo evoluto in questo senso. Tu devi, anzi vuoi prima di tutto, permettere a quel gruppo di vivere questa esperienza, sapendo che quell'esperienza li arricchirà. Però al tempo stesso questo lo tieni dentro anche te. E poi per fortuna anche noi come supervisori, come psicologi, abbiamo bisogno di depositare ad altri. Sembra un po' The Ring, sai che devi passare la cassetta entro sette giorni e se no muori. Ma attenzione, sento un suono quasi necromantico, non so neanche se esiste il termine, ma se non esistesse lo deposito io. Sa di magia, sa di magia. Ma la sera in questo momento. Un necromantico. Visto che nell'altra puntata era andato forte il foglio verde terribile, oggi abbiamo il secondo foglio verde terribile, con il suo suono terribile, in cui ci siamo appuntati alcune domande che vorremmo porti. Difficili? Si è visto di peggio, si è visto di peggio. Allora, intanto al primo posto come ci si sente ad essere direttore del Tognolo, ma questa direi che è già andata. Ecco, poi una cosa interessante, in qualità di direttore del Tognolo, direttore, coordinatore e leader possono essere la stessa cosa e se non possono essere, che differenze ci sono? Nella loro definizione sono ruoli diversi. Uno può essere un leader anche se non è un coordinatore, uno può acquisire una leadership che magari non è solo le competenze, ma è una leadership affettiva. Quindi essere bravo nella costruzione delle relazioni, nel tessere legami, nel facilitare la coesione di gruppo. Un buon conduttore di gruppo e quindi un buon coordinatore di gruppo e anche un buon direttore di un gruppo come può essere il collegio dei docenti dell'università e di tutte le figure coinvolte a volte se le telecomprese è quello del coinvolgere nel percorso orientando ognuno l'assunzione delle proprie responsabilità e riconoscendo fra di loro il valore che esiste tra le singole persone. Se io ti dico Pamor? Roberto è il mio cavallo di battaglia. Questo ormai li martello tutti. Questa te la manda direttamente Daniele Gaiola dal Giro di Bocco. Sì, è chiaro. Se ti diciamo Pamor? Pamor è il patto di gruppo, il patto di gruppo che ogni buon conduttore deve fare con il proprio gruppo quando... Cioè, spiegami allora. Il Pamor è l'acronimo con cinque attività che tu devi fare quando fai il contratto col tuo gruppo. P sta per presentazione. Mi presento e ti presenti. Un buon conduttore di gruppo deve far sì che le persone si ricordino il nome dei partecipanti al gruppo e al tempo stesso il conduttore. È importante che riconosca per nomi i suoi partecipanti perché se no... Come ti chiami? Poi dopo che mi sono presentato e dopo che vi siete presentati raccolgo l'A che potrebbe essere vediamo un po'. Indovinello, indovinello. La santo questa qua. Me la diceva anche prima. Antonio, papà, la presentazione. Allora, prima ci presentiamo, poi... Accoglienza. Accoglienza. No, le aspettative. Ah, infatti io dicevo aspettative. Un buon conduttore di gruppo deve sapere che cosa si aspettano i propri partecipanti e anche che cosa non vorrebbero che accadesse in quel momento di gruppo. e dopo le aspettative ci mettiamo il metodo. M come metodo. Il nostro gruppo si ritrova. Il metodo che noi utilizziamo è il metodo basato sul lavoro di gruppo che genera una riflessione, la riflessione diventazione. Utilizziamo modalità attive, modalità invece più di pensiero. Dopo il metodo ci mettiamo un bellò che potrebbe essere... Otranto? Otranto? No, potrebbe essere appunto... Osservare, occhio, obiettivi. Obiettivi. Obiettivi, obiettivi. Stai entrando... Bravo, Anto. Gli obiettivi, quindi definire... Definire l'obiettivo del nostro lavoro e infine le R che è le regole, ciò che determina il nostro modo di stare insieme con tutte le buone prassi dal patto di riservatezza a tutte le regole che bisogna mantenere nel momento in cui stiamo in gruppo. Il nostro fogliettone verde non è mai stato così completo. Allora, a questo punto, se volete partecipare live e potervi gustare Daniele anche come docente universitario, iscrivetevi al Tognolo e lo potrete avere in diverse materie e fermare anche per i corridoi e chiedergli del Pamor come abbiamo fatto noi oggi. Allora, grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.